Buongiorno a tutti i miei problemi erano e sono tanti, ma penso che ogni tanto la musica abbia una funzione speciale, quella di addolcire i tuoi momenti e di addolcire le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Noi abbiamo una versione che abbiamo più o meno appena fatto e è la prima volta che la rientriamo per le tensioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.